Trasmissione Spiqui Team, dove siamo? Nel cuore dello Spiqui Team, un luogo che impareremo a conoscere, vedete alle nostre spalle dei bellissimi prati, ma in che paese saremo? Cerchiamo qualcuno che ce lo possa spiegare? Cerchiamo qualcuno a piedi o in bicicletta? Forse è più facile trovare qualcuno in mountain bike, visto che potremmo essere nel cuore delle gare, dell'organizzazione delle gare dello Spiqui Team, perché questa è la puntata dello Spiqui Team, allora ci sarà qualcuno dello Spiqui Team, incontreremo qualche protagonista dello Spiqui Team oppure no? Che sorpresa! Ma chi incontriamo? Scusate, vi volete presentare? Chi siete? Cosa fate qui? Che ci fate? Siamo turisti in esplorazione sui percorsi della Pedalonga. Ah bene, e cosa vi porta qui a conoscere la Pedalonga? Beh, la Pedalonga non si può non conoscere, è un evento ormai di carattura internazionale, lo conoscono tutti, Claudio, non so come fai tu a non conoscerla. Ma non so se Francesco la conosce oppure no, hai mai sentito parlare della Pedalonga Francesco? Tanti anni che la conosco, è proprio un must qui, tutti impazziscono per la Pedalonga, è un evento clou. E vi state quindi allenando, pensate di farla in questa occasione oppure no? Eh, ci proviamo dai. Beh, in coppia non credo perché la formula quest'anno è il singolo, no? Eh sì. E quindi sarà battaglia fra voi? Sì, sopra da soli. Abbiamo iniziato in maniera scherzosa perché siamo proprio qui nel cuore di Dosoledo, 12 finili, è un posto dove passa tra l'altro la Pedalonga. E allora, in quest'ultima puntata di questo nostro meraviglioso viaggio che stiamo compiendo insieme a voi, parliamo proprio dei percorsi, perché allora, parte ce lo mettono già la natura, con le montagne, i prati, però buona parte sono anche i percorsi, tracciare i percorsi non solo della Pedalonga, ma anche delle altre due gare che Spicquitim organizza per questa stagione estiva, che in questa giornata non è tanto stiva, ma è il bello della montagna, insomma, no? Da dove partiamo allora? Direi Dolomit XC? Allora, Dolomit XC è uno degli eventi, come giustamente dicevi tu Claudio, che organizza Spicquitim già da un po' di anni. Lo scorso anno abbiamo avuto l'onore di far parte del circuito della Coppa Veneto e faremo parte anche quest'anno del circuito Veneto Cup, quindi siamo una gara a tutti gli effetti ufficiale. Partecipano tendenzialmente atleti professionisti, quindi sono gare non per l'amatore della domenica, ma per gente che è abituata ad allenarsi tutto l'anno. La organizziamo a Vigo di Cadore, è un percorso che quest'anno diventerà permanente, quindi sarà un terreno anche di allenamento per chi vorrà affrontare questo percorso. Sono 4,5 km circa all'interno dei boschi e della viabilità di Vigo, quindi anche molto spettacolare. Ovviamente è un percorso tecnico, molto impegnativo, senza cose straordinarie, però comunque che ricalca un po' i percorsi del cross country, quello tradizionale. Ed è piaciuto molto anche questo agli atleti, siamo tornati un po' ai percorsi che si facevano negli anni 90. Adesso c'è tutto un po' un estremizzare, anche i percorsi con salti, drop, tutta una serie di ostacoli che sono diventati molto impegnativi, invece questo è un percorso molto più tecnico, però senza delle cose così impegnative. Ovviamente è un percorso da fare più volte a seconda delle categorie di appartenenza, per cui l'appuntamento per il 2024 e il 9 giugno, dove ci sarà un grande spettacolo che poi si sposterà nel pomeriggio anche con la versione per i ragazzini, per i bambini della Veneto Kids, e quindi ci attendiamo dai 4 ai 500 concorrenti, per cui un bel evento. E quindi anche per il pubblico, per chi lo vuole seguire, quindi la spettacolarità di poter seguire anche più fasi della gara. Esatto, diciamo che un po' è quello che si sta cercando di portare in tutti gli sport, l'abbiamo visto anche negli sport invernali, nello sciolpinismo, per esempio, che insomma qui abbiamo campioni in Valcomelico che anche quest'anno hanno dato lustro in questa disciplina, si sta tentando, e la direzione è quella di creare questi percorsi molto spettacolari su circuiti più corti, dove la gente può vedere più volte il passaggio degli atleti, e quindi il tifo aumenta l'entusiasmo, l'adrenalina, per cui insomma noi che siamo speak with team, stiamo cercando di adeguarci anche noi a questi nuovi format, perché ci siamo accorti che effettivamente richiama molto pubblico. Ecco, e per la tracciatura dei percorsi per la XC? Allora, più semplice chiaramente rispetto alla pedagoga? Sì, molto più semplice, diciamo che richiede molto più manutenzione, perché ovviamente avendo più passaggi si rovinano anche di più, abbiamo delle squadre apposite che si occupano tutto l'anno di questo aspetto, a Vigo c'è una squadra dedicata proprio per la tracciatura e la segnaletica e il mantenimento di questi percorsi che approfittiamo per ringraziare perché è un lavoro che si fa tutto l'anno e quindi un po' più semplice però rispetto a quello che è Pedalonga che insomma ci sono quasi 150 chilometri di percorsi da controllare e tenere manutentati, quindi insomma in questo caso è un po' più semplice il lavoro. Assolutamente. Francesco, un pezzo del lavoro sia ancora più semplice per la Cronorazzo? La Cronorazzo, diciamo, è l'ultima delle tre gare di Spicco e Team. Ovviamente non si parla di ruote grasse però si parla di bici da strada, ruote strette, diciamo. Questa gara viene organizzata sempre da Spicco e Team a Vigo, a Vigo di Cadore. È una gara in linea e praticamente la gara è solo salita. È una gara molto dura con 14 chilometri di pura salita con 828 metri di dislivello e si arriva in cima a Rasso dove lì si svolge tutte le premiazioni, si mangia, rifugia, tenente Fabro. È una bella gara, molto dura e si arriva a Rasso dove diciamo che il panorama non manca. È molto spettacolare anche lì, una zona molto panoramica. Penso, Francesco, nell'ottica Spicco e Team, l'abbiamo visto nel grande Slam Dolomiti, mettere insieme mountain bike e corsa, in questo caso mountain bike e bici da strada. Quindi anche un senso di amicizia verso gli appassionati delle due ruote, non solo quelli della ruota grassa ma anche quella ruota da strada. Un modo anche per fare gruppo o no? Certo, lo Spicco e Team ha sempre avuto come forte, come idea lo sport di gruppo e l'amicizia. Diciamo che nello Spicco e Team ci sono molti sportivi, dai runner, dai triatleti, quindi diciamo che la cosa principale dello Spicco e Team è l'amicizia e condividere lo sport. Poi dopo ognuno fa lo sport che il più piace però l'importante è che sia sempre l'aggregazione, l'amicizia e il condividere la fatica e la sport. Certo, e poi tutta la preparazione perché ecco, tu insieme a quanti altri vi occupate dei tracciati perché noi veniamo, vediamo tutte queste gare, le facciamo, belli bravi, però tutto il lavoro che c'è dietro in organizzazione e nella tracciatura? Diciamo che ringrazio da subito chi ci dà una mano perché è gente che anche non ha a che fare nulla con la bicicletta, viene solo per dare una mano a un evento che per il comelico diciamo è il clou, quindi vengono da gente che è pensionata, gente che non c'è niente con la bicicletta, quindi siamo diversi gruppi, sia ciclisti che corrono la peda longa e anche gente che non c'entra a nulla. È un lavorone grosso perché oltretutto i ciclisti, quelli che vanno in mountain bike hanno beneficio a questo, però anche i turisti hanno beneficio a trovare un sentiero fatto bene, messo bene, poi rimane per tutta la stagione. Rimane per tutti, quindi è una cosa per tutti, per il turismo, per il futuro al comelico che noi ci crediamo tanto nel turismo, quindi è una cosa in più per tutti, per la comunità. Francesco, sappiamo che tu devi andare, nel senso che hai il tempo contato, devi ripartire in bicicletta, ti ringraziamo tantissimo per essere stati con noi, Francesco. Ci vediamo quindi nei tre eventi e oltre di Spequi Team. E ora abbiamo una sorpresa, sta arrivando un giovane ciclista, un appassionato delle due ruote, se è vero che buon sangue non mente, benvenuto a Leonardo Festini Purlana. Ciao Leonardo. Da quanti anni vai in bicicletta, scusa? Ormai saranno dieci anni che vado con la bici, ho iniziato da bambino, ero piccolino quando ho iniziato. E quando eri piccolino che vedevi il papà che è al tuo fianco felice che ti raccontava quindi dei giri in bicicletta delle gare, ti ha fatto unire la passione inevitabilmente. Sì, mi ha fatto unire questa passione per la bici che la coltivo ormai da molti anni e è una cosa che mi piace soprattutto perché giro in questi posti fantastici e mi piace ogni giorno esplorare zone diverse. E poi la cosa bella ecco, dovete sapere nello speak with team c'è un responsabile tracciati nei tracciati c'è ognuno che ha il suo ruolo così per i grandi e così anche per le giovani leve. Quindi tu Leonardo c'è già una bella responsabilità così giovane. Eh sì, faccio parte del mini direttivo che è composto da da una decina di ragazzi che ci sono tutti i ragazzi che fanno i corrispettivi degli adulti diciamo c'è il vicepresidente dei piccoli c'è il presidente dei piccoli e io sono quello come il papà che fa responsabile dei tracciati e quindi mi occupo di andare a mettere le tabelle di sistemare il quanto più possibile i tracciati e dare una mano anche al papà nelle sue cose. Naturalmente è inutile sottolinearlo che fai anche le gare giusto? Sì, faccio ormai manca un anno che posso fare quella per i grandi diciamo però sì, faccio anche altre gare per esempio l'ecologica che è sempre nel giorno della pedalonga e altre gare fuori magari nel circuito Veneto. Però complimenti ecco Leonardo ci ha accennato la pedalonga non soltanto l'evento clou chiaramente ma tutto quello che sta intorno ovvero Michele preparazione tracciati ma anche tutto quello che è l'ospitalità e gli eventi collaterali che quest'anno la pedalonga ne presenta molti a partire da la pedal run e cosa c'è di più Michele? Quest'anno in occasione del ventesimo che stiamo festeggiando anche insieme a voi di Telebelluno è un anno speciale per un anno speciale dovevamo organizzare qualcosa di speciale quindi abbiamo aggiunto poi ci siamo accorti forse che abbiamo aggiunto qualcosa di troppo ma ce la faremo e abbiamo aggiunto un sacco di cose e di eventi di ospitalità per cui nel weekend della pedalonga ci saranno ben quattro gare per cui le due classiche quindi il percorso maraton e il percorso classic della pedalonga poi ci sarà il percorso che diceva Leonardo ecologica che quest'anno si chiamerà quattro campanili più uno perché tocca i quattro campanili di Comelico Superiore più quello di San Nicolò quindi è il più uno sempre in bicicletta e poi ci sarà la Pedaran che invece sarà un evento a piedi che si chiamerà quattro campanili perché ricalca perfettamente o quasi il percorso che si realizzava e si correva negli anni 90 qui a Comelico Superiore era proprio una gara di corsa che è andata avanti per diverse edizioni aveva anche un discreto successo e tocca le quattro borgate di Comelico Superiore quindi quest'anno si partirà da Casa Mazzagno e si arriverà a San Leonardo dove ci sarà il raduno Io c'ero a chilometri zero che è un raduno fatto apposta per portare la gente sul percorso attifare i concorrenti dei due percorsi principi della pedalonga per cui eventi negli eventi a Padola il giorno prima quindi venerdì 19 ci sarà il Pedavillage quindi un'area espositiva per tutti i marchi di settore con un prologo la possibilità quindi di percorrere un piccolo pezzo di cross country che è all'interno del percorso pedalonga e lì ci sarà il DJ ci sarà il motor show un bike show ci sarà musica festa tutto il pomeriggio per creare un po' di atmosfera pre-pedalonga insomma per cui e allora diciamo la data della pedalonga 20 anni di Spiqui Team non poteva che essere il 20 di luglio 2024 quindi vi aspettiamo tutti in Valcomelico ma vi aspettiamo anche agli altri eventi quindi 9 giugno a Vigo di Cadore 29 settembre sempre a Vigo per la Colonna Razzo io spero sia una grande stagione che questa stagione resti dei ricordi delle giovani generazioni e di tutti quelli che ci seguono è stata una bella avventura un bel cammino grazie a Claudio grazie a tutta la redazione perché è stata veramente una bella esperienza e vi aspettiamo in Valcomelico in Cadore anche per noi l'è stato veramente Michele aver avuto l'opportunità di raccontare questi 20 anni di un sudalizio sportivo sì ma non solo mi permette di dire anche culturale e turistico e aver scoperto una cosa ci sono 20 anni di Spiqui ce ne saranno molti altri da raccontare grazie a chi sta alla tua sinistra al movimento dei giovani Leonardo in quanti siete voi giovani dello Spiqui Team? sono tre corsi diciamo di bici quello del Cadore quello del Comelico e uno a Ponte nelle Alpi in tutto siamo circa 60 65 vengono tutti perché proprio gli piace fare mountain bike e gli piace vedere questi posti meravigliosi questi panorami volevamo chiudere proprio così con questi pensieri con questi numeri e con questo spirito il futuro non solo dello Spiqui Team ma del movimento sportivo della Val Comelico del Cadore e della provincia di Belluno e allora Leonardo grazie mille grazie arrivederci Michele è stato un grande piacere davvero il piacere è stato tutto nostro e grazie ancora ci vediamo sui sentieri e grazie a voi per la gentile attenzione arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.